Martedì 11 e 20 minuti e doi la bentrovata anche a Lucia Gallucci. Grazie, grazie infinita, grazie. Eccoci, parliamo oggi di benessere, come vi dicevo, vi avevo già annunciato e qui su Radio FM1 questa mattina parliamo dei sistemi di riposo, come riposare bene Lucia e Lucia lo sa benissimo perché fa parte del team di Officina del Comfort che sul nostro territorio ormai è una realtà molto conosciuta. Assolutamente sì e siamo felici di questo e del riscontro che stiamo tenendo perché puntare sulla qualità di un prodotto è assolutamente molto importante, al giorno d'oggi l'attrattiva è sempre più vasta di prodotti di questo genere, ce ne sono tantissimi quindi bisogna sempre far fronte non tanto alla quantità ma alla qualità ed è per questo che noi abbiamo fortemente voluto un laboratorio interno con un team di ricerca affinché ogni prodotto sia unico nel suo genere e studiato apposta per le necessità del cliente finale. Fantastico, una realtà che poi è giovane comunque sia. Assolutamente sì. Anche formata da giovani. Esatto, nasce dalle menti dei tre soci, Samuele, Jonathan e Christian, i quali peraltro sono anche titolari dell'azienda Brasili Comfort SRL dove ci si occupa di termoidraulica e non solo. Nasce questa nuova realtà da un bisogno fisico e così Samuele in primis cominciò a studiare questo nuovo percorso. Cioè voleva riposare bene? Sì, aveva dei problemi personali a livello di riposo, poi lui è un tipo molto attivo quindi si è messo in contatto con diverse aziende, ha fatto dei percorsi formativi, ha studiato, ha fatto ricerca di prodotti insieme a loro e poi è nata così Officina del Comfort. Ecco vedi, da un bisogno poi nasce una realtà che aiuta tante persone. Esatto, perché comunque ricordiamo anche che molti dei nostri prodotti sono proprio dispositivi medici certificati, quindi anche chi ha più bisogno di un prodotto particolare o fatto apposta per un determinato appunto bisogno può sicuramente fare riferimento a noi. Infatti leggevo sulla vostro sito officinadelcomfort.com che ci sono proprio delle certificazioni che attestano proprio la qualità dei prodotti, dei materiali che vengono utilizzati e sappiamo benissimo che il giorno d'oggi con le allergie, le problematiche con cui incappiamo, comunque abbiamo bisogno di riposare bene soprattutto su dei materiali che non siano ecco di bassa qualità. Esatto, anche perché spesso non si pensa a quanto sia importante il riposo, uno dice sul letto, sul materasso, io vado solo a dormire. Quello che piglio piglio. Esatto. Invece è fondamentale, fondamentale perché ne vade proprio la nostra salute e il riscontro che abbiamo avuto in questo senso da parte dei nostri clienti è stato molto molto forte, la differenza l'hanno notata. Quindi il prodotto è un prodotto che appunto va un po' a raccogliere tutti i bisogni. Il nostro punto, faccio questa piccola parentesi in occasione appunto del nostro fuori tutto in questo periodo che durerà fino al 15 di febbraio, è il Natan, così si chiama il prodotto di punta, che è un materasso unico nel suo genere perché è costituito da sfere che vanno a bilanciare l'intero peso del corpo. Quindi è un prodotto che va assolutamente provato e può ovviamente essere provato in tutti i nostri punti vendita che sono a Campiglione, in contrada Campiglione, località ex Homsa, a Qualerone, a Colli del Tronto e a Porto San Giorgio. Oh, da una realtà veramente che è nata qui locale, poi vi siete proprio, no? Vi siete spagliati. Assolutamente sì. No, questo è stato un buon trampolino di lancio, quello di Campiglione, poi come ti dicevo prima, il fatto di avere un prodotto di ottima qualità fa sì che ovviamente il passaparola tra le persone sia più valido di una qualsiasi altra forma di pubblicità. Questo per noi è stato un buon riscontro. Certo, che poi tra l'altro non è che andate ad affidarvi ad altre aziende, poi voi non è che vendete, voi lo producete proprio. Lo produciamo, anzi il nostro laboratorio è anche possibile visitarlo e il laboratorio è incontrato a Campiglione, quindi vicino proprio al punto vendita di Campiglione. Anche per quanto riguarda la scelta di tutto quello che è, oltre alla materia prima proprio delle lastre, anche quello che è il guscio del materasso che può essere fatto a seconda magari del gusto del cliente. Quindi insomma è tutto un sistema che gira intorno al fatto a mano, ecco diciamo così. Certo, e poi non soltanto il sistema di riposo ma avete anche altri prodotti in azienda, cioè vi siete anche diversificati da questo prodotto. Quindi al di là del materasso o sistema di riposo che sembra un parolone, no? Invece ovviamente anche reti, reti ortopediche motorizzate e c'è tutta la fascia riguardante la sanitaria, quindi ovviamente per chi può avere problemi di ambulatori piuttosto che magari dei sistemi appunto che servono per delle esigenze particolari, quindi tutto riguardo la salute del cliente o comunque della persona. Certo, vedevo infatti anche i letti addirittura. Sì, i divani, quindi tutto quello che è un po' il sistema d'arredo per la vostra casa. Certo, vogliamo ricordare appunto gli sconti in questo periodo che ci sono. Attualmente c'è il fuori tutto, quindi ci sono prodotti anche fino al 70%, tutto quello che è presente all'interno del negozio. Quindi visitate i nostri punti vendita perché sicuramente resterete soddisfatti. Ecco, appena ci presentiamo ci sei te che ci accogli? Io non ci sarò perché vorrei avere il dono delle obiettuità in tutti i negozi, però magari va a fidare che ci vediamo. Sappiamo che sei una ragazza, una donna, un multitasking, Lucia, però comunque hai collaborato sin dall'inizio in questa azienda. Sì, allora io in realtà faccio parte attiva della Brasili Comfort dove sono responsabile tecnico commerciale. Ho seguito insieme ai fratelli questo progetto, quindi l'ho visto nascere sin dall'inizio. Seguo, mi occupo del personale e soprattutto della parte pubblicitaria per quanto riguarda l'officina del Comfort. Quindi per me è un bambino che tengo per mano, ci tengo particolarmente, quindi è importante che il messaggio arrivi a tutto in modo pulito e distinto. A me piace mettermi in gioco e quando ci sono dei buoni propositi e soprattutto dei buoni prodotti e un'ottima squadra non posso assolutamente tirarmi indietro. Beh, assolutamente, non devi. E quindi l'officina del Comfort, i sistemi di riposo, riti, divani, poltrone, sanitarie, insomma un insieme di prodotti che potrete trovare nelle diverse sedi, le vogliamo ripetere ancora per ricordarle. Assolutamente, sì, a Colli del Tronto, Porto San Giorgio, Campiglione e Falerone. Perfatto. E beh, cavolo Lucia. Non potete dire, non so dove trovarli. Sono dappertutto, ma questo è bello però, una cosa veramente che voglio sottolineare che è un'azienda giovane fatta da ragazzi che veramente si sono messi in gioco e che hanno veramente studiato e si sono specializzati e stanno riscuotendo grande successo ma ha ragione per tutto l'impegno appunto che mettono in quello che fanno. Quindi complimenti. No, io sono molto fiera di far parte di questa squadra perché sì, è vero che siamo tutti molto giovani, però è anche vero che siamo molto responsabili. Sai, spesso si associano al fatto di essere giovani al non avere un po' quella serietà nelle cose. Invece i Fratelli Brasili e le aziende che hanno costruito vanno un po' a fare la differenza in questo e lo posso dire a gran voce. Motivo di vanto per il nostro territorio sicuramente, prodotti veramente di qualità e andatevi a trovare. Assolutamente sì, noi vi aspettiamo anche perché presto peraltro vi invito a seguire anche le nostre pagine Facebook, verrà presentato un nuovo prodotto tutto naturale con certificati Orsa Form, quindi per saperne di più seguiteci ovviamente sui social, visitate i nostri negozi. Bene, grazie, grazie mille Lucia. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.